Questa è una truffa, cioè è un ledere la dignità di una persona che paga le bollette in tempo, paga le sue tasse. Questa è carta straccia perché loro mi fanno pagare un qualcosa che forse userò, perché al momento non ho ancora usato. Stangata sulle bollette del gas metano, sono decine le segnalazioni arrivate alla nostra emittente sul costo eccessivo dei consumi. Infatti molte famiglie, soprattutto chi vive da solo o con una pensione minima, fa difficoltà a sostenere cifre elevate. La prima chiamata arrivata in redazione è stata da parte di Laura, residente a Cucurano, che negli ultimi mesi ha riscontrato alcune irregolarità. La prima, ci ha spiegato, è che l'autolettura da lei fatta e dichiarata il 27 aprile scorso non risulta in bolletta e anzi nella parte posteriore sono segnati ben 100 metri cubi in più. Ciò significa che dovrà sostenere una spesa maggiore per ciò che effettivamente non ha consumato. Per questo motivo ieri si è rivolta all'ufficio Prometeo, dove hanno controllato il documento ed è stata richiesta la rettifica della bolletta. L'impiegata mi dice che se i metri cubi aggiunti superano i 100, la rettifica verrà fatta automaticamente da lei. Se la rettifica invece, se i metri cubi aggiunti sono inferiori a 100, dovrà essere fatta una richiesta, vagliata nel centro Prometeo che dovrebbe trovarsi a Prato, aspettare una risposta e attendere se la mia bolletta verrà rettificata oppure no. E siccome la scadenza della bolletta è il primo luglio, se non verrà rettificata dovrà pagare l'importo stabilito più la mora per il ritardo nel pagamento. Io mi sono arrabbiata molto perché, come dicevo prima, sono solita a controllare le bollette. Io mi sono accorta che in bollette, se prendiamo ad esempio questa del 18 gennaio 2016, abbiamo un'autolettura, un'altra autolettura fatta da me, un consumo rilevato di 219 e un consumo fatturato di 226, quindi aumentato. Altra bolletta, 9 marzo 2016, stessa storia, autolettura, a questo punto abbiamo anche la lettura dell'azienda distributrice finalmente, ma non cambia niente perché il consumo rilevato è 151 e il fatturato 156, cioè tutti i metri cubi in più che vengono aggiunti. Io questo voglio dire, voglio dire ai cittadini fanesi di controllare perché io stamattina, allora, io non posso portare prove della mia vicina di casa, ma la mia vicina di casa è nella stessa situazione, la signora è in attesa all'ufficio Prometeo, nella stessa situazione, l'anziano che esce dice, tanto c'hanno sempre ragione loro, nella stessa situazione, non va bene così. Questa mattina ci siamo recati agli uffici di Vianolfi dove i fanesi erano in fila davanti agli sportelli di Aset Holding, chi disperato e chi arrabbiato ci hanno confermato i costi onerosi. Anche lei sta facendo la fila, vedo che lei ha in mano. Sono depresso stamattina, alla grande, ti faccio vedere, guarda, può fare il primo piano, c'è scritto. Lei invece è solito controllare le bollette oppure quando sa della scadenza avviene giù? 1,58 euro, sono da per me, cioè ho sempre pagato tutte le bollette regolari, questa volta mi è arrivato così, non so il motivo, non so il perché. Quindi è più elevata rispetto alle volte scorse? Un po', un po', un po', tanto, tanto, tanto. Io normalmente pagavo sulle 87, 100, 115, ogni 120 proprio, e adesso mi è arrivata questa bolletta. 300 euro in più non sono pochi. Bollette che mai pagate in vita mia, poi prima avevo un appartamento molto più grande, adesso ho un appartamento molto più piccolo e pago molto di più. Qui gennaio e febbraio ho pagato 234 euro, febbraio e marzo 462,97 euro. E siamo io e mia moglie, stiamo attenti, perché giustamente sono solo io pensionato, e perciò arrivare queste bollette qui, allora, o che paghi il gas o che non mangi. Alcune precisazioni sono arrivate nel pomeriggio da Prometeo SPA, che ha inviato un grafico per mostrare quanto incidono le singole voci in bolletta. La fetta principale riguarda le tasse locali e nazionali che pesano per oltre il 40%, ma per maggiori dettagli nel telegiornale di mercoledì delle 20.30 trasmetteremo un'intervista con la presidente di Aset Holding, l'azienda che gestisce il servizio di luce e gas.